Si continua a parlare di bicentenario della battaglia di Tolentino, ma in maniera particolare si parla di tutto quello che è successo dopo fino al 1870, questo grazie a carte riscoperte che viene nuovamente allestita e alla presentazione del volume dedicato a questo particolare periodo storico della nostra città, in pratica Tolentino e Risorgimento. Sì, è la partecipazione diretta di Tolentino al processo di unificazione, non soltanto attraverso la sua vita cittadina, ma soprattutto la sua partecipazione ai grandi eventi nazionali. Infatti non c'è tappa del percorso dell'unificazione in cui Tolentino non sia in primo piano, sia con combattenti volontari, cioè uomini di Tolentino di ogni mestiere, di ogni appartenenza sociale, che combattono in tutte le più importanti battaglie, in tutti i più importanti appuntamenti del Risorgimento. Ma nello stesso tempo c'è una classe politica che a Tolentino partecipa alla evoluzione sociale, economica ed è sempre affacciata sul mondo circostante. Questo è un fatto che i documenti confermano e quindi, come ho detto spesso, è una mostra che dimostra. Partendo da un lavoro di ricerca effettuato dagli studenti di tutte le scuole tolentinati, dalle scuole medie alle scuole superiori all'interno dell'archivio storico, nasce anche una riproposizione di scene di vita dell'Ottocento, a fare da scenario il Castello dell'Arancia e non poteva essere altrimenti. I ragazzi delle scuole di Tolentino, soprattutto delle superiori, hanno fatto questa ricerca storica nell'archivio storico, scusate la ripetizione, della biblioteca e tutto questo materiale molto interessante si è deciso di farne una mostra. All'interno di questa mostra, per non rendere la mostra un po' così fine a se stessa, ho pensato di ricreare un ambiente proprio al Castello dell'815, in quanto queste ricerche storiche sono state fatte proprio in quel periodo lì. Per cui ci saranno i ragazzi delle scuole, ma anche altri figuranti vestiti d'epoca di tutto punto, che faranno arti e mestieri e azioni dell'epoca. Un fine settimana storico per coinvolgere la città e non solo per rivivere i momenti dell'Ottocento e per ricordare ancora una volta il bicentenario della battaglia del 1815. Sì, un evento conclusivo delle celebrazioni del bicentenario di questo evento storico del maggio 1815, che ha visto coinvolte diverse associazioni della nostra città, comprese le scuole, soprattutto le scuole. Quindi un momento che vuol far rivivere a tutta la città i momenti semplici di vita quotidiana dell'epoca, della pre- e dopo battaglia. Diciamo che la battaglia l'abbiamo vissuta molto intensamente nel maggio scorso. Ora viviamo veramente quelle che erano le piccole quotidianità di quell'epoca. Abbiamo dei documenti davvero molto interessanti e che andiamo a riproporre in una mostra che verrà inaugurata a Palazzo Parisani Bezzi, oltre a questi due momenti, sabato e domenica, da vivere veramente intensamente al Castello dell'Arancia.